Studiare la decompressione Lo studio degli effetti della decompressione è uno degli aspetti più affascinanti dell'attività subacquea. Il vostro più importante compagno di immersione, il computer subacqueo, vi aiuterà e suggerirà come agire nelle varie situazioni. Tuttavia è importante capire come funziona il computer, capire perché modelli matematici diversi diano risultati diversi, capire quali parametri siano considerati nel calcolo della decompressione e quali no. In poche parole, sapere cosa sta facendo il computer di immersione. Solo questa conoscenza vi permetterà di padroneggiare la situazione e capire come comportarvi anche prima che ve lo dica il computer. Grazie